ciao ciao io sono animo alex alex e vieni da da luco qua due passi fantastico la mia mamma ha fatto questo lavoro qua in Romania tutto tutto con le gambe chiuse richiamate questo è un guido tranquillo portato è un guido tranquillo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Togli gli occhiali Saluta Ok Dopo facciamo una foto Ehi Fai così Grande Fai così Sì Ok Ok